A tutte le unità, sullo fiume di fargienza, su Budden Road. Il Grazie a tutti i nostri ammogliani, la veicola è ancora un movimento. O. 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 Redeggiamo un segnale di aggassamento V-A-M, cerca di evitarlo. Fiedono un avertimento. Connessione GPS interrotta. Tuteli unità. Siamo interferente. Mantenere il contatto positivo. Contatto. Creare problemi all'SCPD. Contatto. Attenzione alla strada. A tutte le unità. Stiamo registrando un tipo di potenza proveniente dal sospetto. State allerta. Grazie. 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 Grazie.